GF VIP, ladri entrano nella casa, una inquadratura che ha dell'incredibile, ladri ripresi in diretta al grande fratello VIP, l'irruzione dei tre uomini incappucciati è andata in onda mentre gli inquilini pranzavano e ha sconvolto i telespettatori, tutti con gli occhi sgranati increduli per ciò che stavano vedendo, ma poi si scopre la verità, i tre ladri sono stati ingaggiati dal grande fratello VIP che si è prontamente preoccupato di lanciare il famoso Freze per fermare chiunque si mettesse sulla loro strada e gli impedisse di compiere il furto senza problematiche aggiunte, l'oggetto del furto è stato il pranzo dei VIP, che si erano appena seduti a tavola, un colpo di scena del tutto inatteso da parte dei VIP che non hanno reagito proprio positivamente a questo scherzetto da parte del grande fratello VIP che li ha lasciati a bocca asciutta.